Senti, ma ti piace il posto dove ti ho portato? Ah, è bello! È vero? Bellissimo! Elegante! La piscina! La piscina! Però la cosa più bella sei tu! Che carino! Ma l'antipasto ti è piaciuto? È perfetto, buono! È vero? Ma chiediamo il primo, va bene? Va bene! Però, però, io non so come te lo posso chiedere, però te lo voglio chiedere! Dai, non devi essere timido con me! Tu puoi chiedere tutto quello che vuoi! Tutto, tutto, tutto! Tutto, tutto! Non devo essere timido, vero? Soprattutto tutto questo! Non deve essere timido! Senti, allora, Jennifer, senti, se ti chiedessi di fare l'amore con me, tu ti rifiuteresti! Veramente, è una cosa che non ho mai fatto! No! Wow! Allora, sei vergine! No, ciocchino! Non ho mai rifiutato! Ah, ah, non hai mai rifiutato! Ecco perché! Allora, lo vuoi fare? Lo vuoi fare? Lo vuoi vedere? Sì, aspetta! Sì, aspetta! E che dici, mangiavi il primo o andiamo prima? No, per me possiamo passare direttamente al disserlo! Andiamo! Andiamo! Oh, che bello, ma non lo sapevo! Un po' a tutti i miei! Mi piacciono quello di questa che è il primo!